Ben ritrovato sul mio canale, video brevissimo perché volevo spacchettare finalmente questo bellissimo kit così posso metterlo nel mio Travelers è arrivato il pacchettino di Angela Smile, purtroppo mi è arrivato ieri solo che non sono riuscita per niente a girare il video quindi sto approfittando adesso, io perdonatemi l'ho aperto semplicemente per vedere che cosa ci fosse perché sinceramente aspettare, cioè voi lo sapete meglio di me che la curiosità è donna quindi non sono riuscita ad aspettare comunque l'ho semplicemente diciamo sbirciacchiato, adesso lo vediamo insieme nel dettaglio allora adesso usciamo il tutto e vediamo cosa c'è all'interno di questo fantastico kit allora innanzitutto è arrivato tutto in questa bustina carinissima con la scritta dolcetto scherzetto con questo pipistrellino tenerissimo e il calderone della pozione allora intanto vi mostro il bigliettino da visita di Angela Smile lei è una grafica, fa stickers, divisori, paper clip, shaker dashboard, fa un sacco di cose qui ci sono praticamente riferimenti a tutti i suoi canali, social e tutto quello che concerne appunto Angela Smile io adoro i suoi lavori perché sono troppo carini, troppo simpatici, quindi mi piacciono tantissimo e quando posso riesco prendo i suoi kit allora abbiamo come prima cosa questi die cut aiuto? ok allora abbiamo la scritta happy halloween metti a fuoco ti prego ok happy halloween poi abbiamo che carino il carilino della rascong in versione halloween tutto nero perché non mette bene a fuoco? c'è qualcosa che non gli piace ecco con appunto le varie cosine, la ragnatelina, il computer con la zucca è troppo carino ok poi abbiamo il cagnolino con la zucca in testa allora abbiamo una bambolina in versione Harry Potter, adoro, questa è bellissima abbiamo il pipistrellino simpatico poi abbiamo un ragnettino due fiocchettini sul glicine, sono fantastici, sono troppo belli un colore bellissimo questo gattino carinissimo con gli occhioni giganti la scritta dolcetto scherzetto poi abbiamo la bambolina in versione fantasmino che carina e poi la versione in versione zucca tipo zombie, un qualcosa di questo tipo dai carinissimi una visione generale dei die cut è questa qui sono bellissimi li metto a lato allora poi c'è la paper clip in questo kit ok allora abbiamo la paper clip ed è un calderone che carino anche la base ha messo è questo fantastico calderone della pozione con colore bellissimo bel rosa una fucsia fatto benissimo ed infine è arrivata questa bustina troppo carina fatta plastificata dove noi comunque possiamo metterci appunto i nostri die cut le cose che più ci interessano ci mettiamo anche il bigliettino di Angela dai è carino è fatto veramente bene mi piace molto è rimasto dentro il gatto comunque abbiamo la pozione la lapide il retro è identico e qui ci ha fatto questo taglio preciso è davvero carino hashtag dolcetto scherzetto che carino dai con questa visione di queste cose carinissime del kit di Angela Smile io vi saluto vi ringrazio per aver visto anche oggi il mio video fatemi sapere che cosa ne pensate io lo adoro mi piacciono troppo anche i colori cioè guardate che bello questo fiocchetto troppo top e vi ringrazio come sempre un bacio al prossimo video ciao ragazze ciao